benvenuti amici vapers benvenuti canale youtube lisvapo io sono mister ninno tata trattino basso tnt andiamo a vedere un prodottino sicuramente innovativo economico e molto funzionale sto parlando di una pod mod usa e getta si chiama vice dentro contiene un liquido tabaccoso tribe calo del brand americano molto buono viene fornita in questa piccola confezioncina si può acquistare sia online o presso il nostro shop di fiducia come funziona entriamo in negozio e scegliamo se prendere la versione con il tabacco o la versione mentolata al suo interno troveremo 20 mg di nick salt ovvero di sale di nicotina ciò significa che sarà a norma di legge allora la scatolina contiene ve lo apro ve lo faccio vedere un piccolo fogliettino illustrativo contenente anche la lingua italiana e sigillato al suo interno la nostra pod dove sarà semplicemente opportuno scartarla ed utilizzarla al suo interno abbiamo eccola qua ragazzi piccolina leggerissima non ha tasti di attivazione sarà subito attiva basterà posizionarla alla bocca ed andare a vaporizzare le sue caratteristiche dentro a un tank da 1 ml la batteria è da 230 miliampere basterà allevare il tappino protettivo che ho allevato adesso ed andiamo ad utilizzare la nostra pod mod fino al suo consumo vaporizza sin da subito non occorre nemmeno fare una doppiezza il liquido è un tabacco secco quindi non ci hanno dei dolci la parte dei 20 mg di nicotina al sale risulta molto gradevole quindi il corpo assorbirà la quantità desiderata di nicotina che generalmente un tabagista o un vavers cerca su un dispositivo elettronico la sua funzionalità quale una volta terminato l ml di liquido la pod si prende e si getta via costa quanto un pacchetto di sigarette 5 euro 5 euro e 50 il suo utilizzo la praticità ne comprate una tenete una scatolina e macchina per ogni emergenza avete un dispositivo sostitutivo uscite da casa avete terminato il liquido dal vostro dispositivo si è scaricata la batteria in emergenza entrate in uno shop comprate una di queste ed andate avanti per ore allora nella confezione riporta che praticamente equivale ad un pacchetto di 20 sigarette ciò significa che i puff contenuti in questo dispositivo saranno tali ad una quantità di fumo utilizzato da una ventina di sigarette questo però è molto soggettivo io sconsiglio vivamente di utilizzarla come sigaretta primaria questa deve essere come una soluzione sostitutiva al vostro dispositivo primario e da allora avrà veramente un senso ragazzi vaporizzo insieme a voi vi faccio vedere come vaporizza vaporizza bene il sapore del liquido tribecalo che a me piace molto risulta molto gradevole scopo utilizzo andiamo al mare non vogliamo lasciare la nostra mod incustodita quando magari andiamo a fare il bagno è estate sera usciamo non vogliamo avere pesi perché siamo con un calzoncino ragazzi questa è la situazione ottimale per un leggero costo abbiamo un dispositivo sostitutivo che ci aiuta in determinate situazioni io lo trovo veramente simpatico pratico e molto economico nero elegante vi faccio vedere la parte dove si poggerà la bocca quindi è bella lavorata è carina una bella linea ragazzi che devo dirvi la recensione è questa dispositivo batteria interna 23 230 miliampere 1 ml di ricarica quando finisce la gettate ditemi voi cosa ne pensate può essere un dispositivo alternativo ai tanti che abbiamo noi io penso di sì ripeto un cliente che viene in negozio e vuole provare la sigaretta elettronica ragazzi miei con 5 euro e 56 euro quello che costa lo inizializziamo alla sigaretta elettronica questo è veramente utile anche per questo scopo ok ragazzi ho detto la mia aspetto la vostra lasciate un commento alla fine del video su ditemi cosa ne pensate del dispositivo vice commercializzato da ribilio lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale youtube all'isvapo qualora non siete iscritti mi trovate anche su instagram basta fare una ricerca all'isvapo lasciate un like sulla mia pagina facebook io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video ci vediamo per tanta la mia prossima recensione saluto tutti quanti ciao mister nino ciao